Ciao, sono Gesù, ho 7 anni e vivo in un paese della Palestina chiamato Nazareth. La mia casa, di colore chiaro, ha un unico piano e un tetto a terrazza. Tutte le mattine mi alzo e mi vesto con una tunica, prego e faccio colazione con pane e latte. Poi mi reca a scuola, nella sinagoga. Seduto a terra, su una stoia di giunco, in compagnia degli altri bambini maschi del villaggio, ascolto le lezioni del maestro, il rabbino. Quando non sono a scuola, vado al pozzo con mia mamma e aiuto mio papà Giuseppe che fa il falegname. Dopo aver aiutato i miei genitori, gioco con gli altri bambini. Non abbiamo molti giocattoli, ma ci divertiamo lo stesso con dadi, vie e trottole. Camminando per il villaggio, o lungo le rive del lago di Tiberiade, osservo i diversi mestieri della mia gente. I pastori sulle colline con le pecore, i pescatori sulle loro barche, i contadini nei campi, il vasai e il fabbro nelle loro botteghe. A presto amici, vi saluto con la parola Shalom, che nella mia lingua significa pace. Ciao!